Ciao Donzellini, avete vinto voi, alla fine faccio il video outfit, spero di riuscire a montarlo entro stasera è un video comunque di risposta alla richiesta di una ragazza che ha comprato come me la borsa, la clutch di Antonello Serio in color tortora e mi ha chiesto di abbinarla e mi ha chiesto esplicitamente un look da giorno rock quindi comunque ho deciso, ho optato per un outfit molto comodo per andare a fare shopping caldo ho anche questa volta la papala e spero vi piaccia, buona visione per quanto riguarda il giubbotto, ho questo giubbotto che credo sia di Zara di qualche collezione fa doppia fila di bottoni lavorati anche qui, il colletto si chiude così anche il bottone sulle spalle è lana cotta, si impela parecchio liscio dietro, colla alla coreana è il giubbotto che preferisco per l'inverno perché è uno dei più caldi che ho non portando più mini mi devo arrangiare con strati di lana gli anelli, questi due che avrete visto mille volte di H&M e di Forever 21 questo golf, che è un golf nuovo, l'ho comprato da H&M, anzi mi ci sono fissata ho aspettato due settimane prima di comprarlo, era rimasta l'ultima taglia e mi ci sono fiondata proprio è leggermente più stretto sui polsi, quindi diciamo che rimane, fa questo rimborso maglia larga, tipo rete, sempre molto largo, lo scollo a barca l'ho pagato 40 euro e attualmente è nei negozi la borsa è la clutch per cui ho fatto l'outfit, è questa di Antonello serio che ho pagato 59 euro, 69 euro non ricordo, scamosciata ho poi dei jeans di H&M grigi i calzi notturni di lana che ascono dagli anfibi e appunto i miei soliti, solitissimi anfibi di Zara spero che l'outfit vi sia piaciuto spero che l'outfit vi sia piaciuto e spero soprattutto sia piaciuta la ragazza che me l'ha richiesto fammi sapere noi ci si vede al prossimo video